Ha scritto una lettera di addio rivolta ai suoi genitori, in cui lasciava intendere di voler togliersi la vita e poi è sparito. E' durato però fortunatamente poche ore l'allarme all'ocri per la scomparsa di un 24enne che si è allontanato volontariamente dall'abitazione presso la quale stava trascorrendo le festività natalizie, facendo perdere le sue tracce. A denunciarne la scomparsa è stato il padre che, non avendo più notizie del figlio, si è rivolto ai carabinieri della locale stazione. Immediatamente raccolte le prime informazioni ed effettuati i primi accertamenti, è stato attivato dalla prefettura di Reggio Calabria il piano metropolitano di intervento coordinato per la ricerca delle persone scomparse. Dopo quattro ore di ricerche ininterrotte, i carabinieri hanno rintracciato presso la fiumara Gerace il ragazzo che, alla vista dei militari, con un coltello in mano, ha minacciato di togliersi la vita. I militari hanno così instaurato un canale comunicativo con il 24enne, ottenendo la possibilità di avvicinarsi cautamente senza che compisse l'estremo gesto. Dopo una lunga opera di persuasione, il ragazzo ha desistito dalla volontà suicida, consegnando il fendente ai carabinieri che lo hanno condotto in caserma dove lo aspettava il padre. Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del personale sanitario che lo hanno accompagnato all'ospedale di Locri.